ed eccoci giunti a quella che nel nostro tutorial è la domanda numero 4 che poi vista la frequenza con cui mi è stata fatta nel corso degli anni tutto sommato forse potrebbe a buon diritto occupare la posizione numero 1 le modalità con cui viene porta la domanda grosso modo sono sempre le stesse e sono queste la porta si apre di due o tre spanne una persona si affaccia timidamente all'interno della libreria e con voce garbata chiede scusi i libri sono in vendita e anche per oggi dalla dimensione parallele tutto grazie per l'ascolto e buona serata